Siamo con Miriam Pasquarelli, oggi l'apertura del vostro undicesimo punto vendita, sempre più presenti sul territorio, con investimenti che danno anche rilevanti possibilità occupazionali. Questo è il nostro undicesimo punto vendita e crediamo fortemente in questa nuova avventura e con la speranza appunto di poter garantire e di creare anche nuovi posti di lavoro. Quanto è difficile in un piccolo territorio come questo, in un momento storico non facile, allargare le prospettive? Sicuramente le problematiche vissute nell'anno precedente e le problematiche appunto che viviamo in questo momento non sono facili, però appunto come dicevo in precedenza ci crediamo e cerchiamo appunto di valorizzare tutto quello che la nostra regione riesce ad offrirci. E quindi l'obiettivo è appunto quello di ambire sempre più a grandi cose. Oggi un altro tassello si aggiunge a un percorso che parte da lontano, è ricco di investimenti, è una soddisfazione? Sì, sicuramente sì, lo è tantissimo per noi perché, ripeto, ci crediamo ormai da tantissimi anni e se siamo appunto qui è perché crediamo appunto di poter valorizzare la nostra città come del resto poter poi valorizzare tutto il territorio regionale. Quindi sì, per noi è assolutamente una soddisfazione. Sì, sì.